Benvenuti a tutti i frienze e benvenuti in un nuovo video Ci troviamo su Fortnite E' uscita una nuova sfida 4byte Andiamo a vedere che cosa si tratta La numero 2 si trova in una posizione nascosta all'interno della schermata di caricamento 6 Ottimo Andiamo a selezionare una di queste qualsiasi modalità di gioco E certo la che la dica è parco giochi Perché i 4byte li possiamo trovare anche nella modalità scatto dell'orda Quindi se volete potete selezionare anche questa modalità Anche se è difficilissimo perché dipende a dove chiude la safe Comunque io me la salto in modalità singolo E ci vediamo subito in game Mentre stiamo raggiungendo la posizione esatta per questo nuovo 4byte Vi invito ad iscrivervi a questo canale Attivate la campagna e notificate Perché quotidianamente posterò ovviamente sopra il canale video dei 4byte Ci siamo buttati a Neo Pinnacoli E sto raggiungendo questo orologio olografico Perché qui si dovrebbe trovare il 4byte numero 2 Infatti eccolo qua signori Ora vi faccio vedere aprendo la mappa dove mi trovo esattamente Lo andiamo a prendere numero 2 E voilà Ora possiamo anche suicidarci Olè E vi apro la mappa così possiamo vedere insieme dove mi trovo Aspettiamo un attimo che carica Comunque a Neo Pinnacoli A Neo ecco qui la mappa Mi trovo esattamente in questo punto qui Dove era il vecchio La vecchia torre dell'oroggio Spero che questo video vi sia piaciuto Perciò lasciate un bel mi piace Condividetelo con tutti i vostri amici Almeno anche loro riescono a trovare questo 4byte numero 2 E mi raccomando iscrivetevi a questo canale Se vi interessano i 4byte Perché ogni giorno alle 3 e 20 Li troverete sopra questo canale Le belle Missa me